Ciao a tutti, buonasera. Io spero che sia uguale ad allora perché Temi sta parlando di una stagione in cui noi abbiamo fatto 41 punti nel girone d'andata e 41 punti nel girone di ritorno. Quindi se la reazione viene di allora facciamo 48 punti anche nel girone di ritorno e la storia diventa interessante. Non penso alla strada, posso avere grandi ripercussioni. Perché la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Ha fatto 27 tiri in porto contro una grande squadra, 15 tiri nello specchio. Ha creato 11 occasioni di addolto contro 5. Quindi i numeri solitamente si trasformano in un 3 a 1 a fine partita. L'unica cosa su cui dobbiamo valutare e dobbiamo capire è perché abbiamo consentito a una squadra che ha toccato 8 palloni dentro la nostra area di fare 4 gol. Quello solo dobbiamo capire per il testo. Abbiamo fatto la nostra prestazione solita di sempre, piena di gioco, piena di palle gol, piena di ritorno in porto, piena di situazioni. E quindi non penso che sia una prestazione dalla quale possiamo uscire a battuta. È una prestazione dalla quale dobbiamo uscire consapevoli che si è creato un problema che va di là della partita maledetta. Perché nel campo c'era la sensazione della partita maledetta. Tre palle gol, questi entrano nella metà campo una volta e ci rifanno d'oltre. Però noi bisogna avere l'aspetto razionale di questa partita. Perché è successo con questo? La Repubblica. Ciao. No, volevo chiederti, vi è inervosito più quel tipo di Pala o il pareggio dopo un minuto di Odero o nessuno di voi? Non lo so il pareggio, potresti sia stato un episodio che ci ha un po' congelato un attimo perché abbiamo fatto corda a un minuto e abbiamo preso l'osso nella reazione e ci ha fatto diventare un prendiglio, un pagnolo e a parte in maniera abbastanza banale, mi sembra. E per quanto riguarda il resto, io penso che l'ho detto di un mese fa. Se te lo ripetessi stasera sarebbe una scusa per me e un'albica di giocatore, quindi è inutile parlare. Ci sono altre domande? Questo signore di Liam Naples. Finora avevate la media di 34 paga per sé a partita, oggi invece ne sono 53, 19 in più. Parlando dei dati, questo numero che ragionamento ne fa fare? Ma sai, per avere un'idea su questo numero bisogna avere un'idea sulla media di pallone di giocatore a partita e a quadrone di giocatore stasera perché se abbiamo giocato 200 pallone in più il numero si è più alto, è abbastanza normale. Qualcosa in più del solito nella fase iniziale l'abbiamo perso, l'abbiamo perso anche dentro la nostra metà campo, quindi in situazioni anche rischiosi. Però te lo vedo, poi il dato di Liam ne avrebbe messo le relazioni, in questo momento non ho il nostro dato medio e il numero di passaggi fatti stasera, probabilmente sono tanti stasera. Nella fase iniziale della partita la sensazione che stavamo perdendo anche palla di troppo ce l'ha avuta anch'io. Un po' meno sull'azione in primo po' perché mi sembra sia venuta fuori la palla da un paio di ripalli, da un paio di contrasti. Quindi c'è una componente razionale, penso. Sono qui. Ciao. Cosa sente di dire ad un pubblico che comunque, nonostante la sconfitta, ha applaudito la squadra, l'ha incoraggiata e ripete sempre uno stesso slogan, no? Forza ragazzi, noi ci crediamo. Cosa sente di dire? Il pubblico nostro è questo, no? Uno va a casa amareggiato non tanto per come finire la partita, ma perché non c'è soddisfazione per un pubblico. Sì, che poi alla fine applaude la squadra lo stesso. E secondo me la squadra se lo meritava, però, stasera. Perché non ho visto raramente una squadra a partita o promessa già da calcio fino alla fine o ha fatto la nostra squadra stasera. Quindi questo è un aspetto che bisogna riconoscere ai nostri ragazzi e come sempre si ringrazia un pubblico che penso sia impagabile e penso non abbia uguali. Perché ti ho visto stasera e prova tanta roba. Ultima Corriere della Sera. Sì, salve, Ministro, saluto. Ciao. Al di là della prestazione e della consapevolezza, della buona prestazione che ha la sua squadra, ecco, lei rientrando nello scoglio tuo a livello emotivo ha percepito che questa sconfitta potesse essere, cioè è stata una botta pesante, media, facilmente metabolizzabile? Ma non ho avuto il tempo di percepire perché ho chiuso la porta e gli ho detto che lo pensavo subito. E ci sono che è quello, ho detto a voi, ci sono da valutare perché ci è successo in una partita per cui abbiamo la forza di fatto il castellamento a otto pallone alla Roma dentro la nostra territoria perché allora abbiamo due giorni per valutare questo e per capire perché è successo e che non voglio vedere serie mentali dopo la prestazione che per tutti gli altri aspetti e sta sui nostri livelli abituali, forse anche qualcosa di più, perché contro una grande squadra di avere 11 occasioni e tirare 27 volte in porta, quindi 15 nello specchio, bisogna che la prestazione sia stata di alto livello. Grazie. Grazie, buonanotte.